Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti. La cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete7, chiama 051 63 81 819. Buon pomeriggio, nuovo appuntamento con la nostra informazione dedicata in gran parte naturalmente all'allerta rossa che perdura per tutta la giornata odierna. Scuole chiuse come sappiamo a Bologna in città metropolitana e altri edifici in realtà esercizi legati in qualche modo all'attività pubblica. La situazione per ora è abbastanza sotto controllo, almeno in città dove si registra solo la chiusura del sottopasso di Via del Triunvirato. Più difficile invece, come era prevedibile, la situazione in colline e in montagna, dove in almeno quattro comuni si registrano frane e smottamenti di una certa intensità. Ma facciamo il punto di questa mattina nel servizio di Federico Balletti con la notizia dell'ultima ora che nel frattempo è stata estesa l'allerta rossa anche per la giornata di domani, mercoledì, ma poi vedremo il servizio apposito. Almeno quattro frane fra l'Appennino e i Colli di Bologna, la più seria a Monterenzio dove terra e fango hanno bloccato la provinciale Valle dell'Idice. Le altre sono fra Loiano, Casalfiumanese e Pianoro. Qui nella frazione di Liverniano un paio di famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale dopo lo smottamento di una parete rocciosa. Ma il maltempo, con un'allerta rossa che è già stata prolungata fino a domani nel Bolognese, si fa sentire anche in città dove, almeno sul fronte del traffico, la chiusura delle scuole ha avuto l'effetto di limitare i disagi che comunque non sono del tutto mancati. Come in via Triunvirato, zona aeroporto dove il sottopasso è stato chiuso in mattinata e poi riaperto. Sui Colli, chiuse via Paderno, via della Torre, via Torriane per allagamenti e piccoli movimenti franosi. C'è poi la solita via Saffi dove il ravone è tornato a fare paura. Lo stesso comune, intorno alle 9.30, ha lanciato un allarme perché il livello del corso d'acqua si stava alzando rapidamente e si prevedeva che nel giro di mezz'ora potesse esondare, sempre nel tratto dove per due volte nei giorni scorsi ha allagato cantine e negozi. L'intera zona è stata presidiata da polizia locale, protezione civile, case e attività commerciali protetti con sacchi di sabbia. Per fortuna l'attenuarsi delle piogge ha per il momento scongiurato il peggio. Il livello del torrente, ben visibile anche attraverso il pavimento del negozio sfondato dalla precedente esondazione, è rimasto alto ma senza tracimare. In mattinata in via Saffi è arrivato per un sopralluogo anche il sindaco Lepore, accompagnato dall'assessore Simone Borsari e dai tecnici del comune. L'allerta rimane e quindi in questo momento stiamo monitorando tutti i corsi d'acqua perché dobbiamo verificare se ci possono essere ulteriori esondazioni. Per ora pare abbia tenuto il ravone ma non è detto che questa sera, oggi pomeriggio, non ci possa essere qualche altro rischio. Direi che ad oggi a Bologna particolari disagi non ci sono dovuti anche al fatto che comunque lo stop alle scuole e il suggerimento che abbiamo dato a tutti di smart working e di muoversi il meno possibile ci sembra molto rispettato. Quindi davvero ringrazio i cittadini, ringrazio tutte le aziende che stanno collaborando perché oggi Bologna ha sicuramente dato prova di grande senso di responsabilità. Eventuale chiusura delle scuole per domani è presto per parlarne? È presto per parlarne, abbiamo una riunione con i sindaci del comune capoluogo questa mattina insieme all'assessore Priolo, ci ritroveremo poi con la prefettura e con gli altri sindaci dell'area metropolitana e decideremo. Tornando a Via Safi, i lavori definitivi sul ravone potrebbero essere anticipati rispetto ai cantieri del tram? Più che anticipati stiamo studiando con le aziende dell'appalto una modalità diversa di organizzazione dell'intervento, proprio a seguito anche di alcune valutazioni che sono state fatte. La strada comunque ha tenuto, quello che non ha tenuto è il negozio e quindi è evidente che al di là dell'intervento sulla strada c'è un intervento del condominio, del privato che occorre fare. Avete dunque sentito che per quanto riguarda l'allagamento di Via Safi l'amministrazione comunale punta il dito parzialmente o tutto contro questi lavori condominali perché nel negozio all'interno di questo condominio da qui fuoriuscirebbe il flusso d'acqua che poi allaga Via Safi. Questa mattina il sindaco Lepoli è andato per un incontro a verificare la situazione e incontrare il proprietario degli immobili, un incontro che si è risolto in un modo abbastanza vivace. Lei si è sentito in qualche modo accusato dal sindaco di avere provocato il disastro che è successo? Non è che mi sono sentito, l'ha chiaramente detto e io ho detto che era quello che mi stavo aspettando perché oltre al fatto che mi aspettavo che mi avrebbero chiesto l'occupazione del suolo pubblico per le transenne, il noleggio dell'attrezzatura e tutto quanto dico a questo punto metto in conto anche di vedermi arrivare i danni ecco per cui sì sì no loro ritengono che la colpa sia nostra di tutto questo e quindi chiaramente mi ha detto è poi non lo so vedremo adesso ha detto che sulle responsabilità sicuramente tanto è noto sui giornali ci saranno indagini penali quindi verranno accettate però questo è stato l'incontro col sindaco ecco diciamo che mi aspettavo qualcosa di diverso però va bene non pigliamo atto. Quindi come minimo lei è arrabbiato insomma? Io cerco sempre di mantenere un linguaggio corretto ecco diciamo che sono arrabbiato sì poi diciamo ognuno è arrabbiato anche perché da una parte è ambastonato dall'altra ma ci vediamo nei prossimi giorni quindi eccetera diciamo che al momento sì sono arrabbiato sì. Quindi per entrare nel dettaglio secondo l'amministrazione comunale la responsabilità dell'allagamento che è successo anzi dei due allagamenti che sono successi sarebbe del privato sarebbe vostra? Assolutamente sì questo è quello che mi è stato riferito con di rimanere in attesa perché abbiamo creato grandi danni alla collettività e quindi questo dal mio punto di vista per quel che posso capire io che comunque non è molto è che mi aspetto che mi arrivi una richiesta di risarcimento danni dal comune. Come vi siete lasciati? Da parte mia non bene poi ci siamo comunque salutati perché educatamente però da parte mia non bene ecco però diciamo che è stato un tono che personalmente non mi sembra appropriato alla carica di un sindaco però ognuno poi ovviamente si comporta come crede ecco. Poco fa ha incontrato il proprietario dell'immobile che è stato maggiormente colpito danneggiato dall'esondazione che cosa vi siete detti? Intanto ieri abbiamo fatto un incontro con i residenti, i condomini e i negozianti per gestire l'emergenza di oggi e quindi ci siamo coordinati abbiamo deciso di collaborare sulla posa dei sacchi questo sarà molto importante anche nel pomeriggio per evitare che i negozi e le cantine vengano danneggiati per cui sarà possibile che nel pomeriggio la strada possa essere chiusa su una corsia completamente qualora il ravone dovesse esondare perché abbiamo scelto di far defluire le acque eventuali che dovesse riuscire dal negozio sulla strada questo dovrebbe causare meno danni alle cose alle persone. Dopodiché con il proprietario come sapete c'è un dialogo in corso abbiamo fatto un'ordinanza che chiede di ripristinare il prima possibile lo stato di fatto del negozio perché occorre tombare quel buco che è sicuramente la causa dell'esondazione delle acque quindi prima si fa questo intervento meglio è. Non possiamo certo parlare in questa diatriba questa tensione in una giornata d'altronde di tensione elevata per i rischi che in qualche modo la collettività possa correre dicevamo non possiamo parlare di terzi età facendo parlare il presidente il direttore generale di Ascommercio Giancarlo Tonelli essendo a tutela dei commercianti adesso iscritti però in qualche modo Tonelli ha detto la sua sul problema di via Saffia Margine della presentazione di una nuova iniziativa che vede coinvolta Fondazione Bologna Finzioni e le cucine popolari. Ascoltiamo allora il parere di Tonelli. È una giornata particolare questa che è già cominciata male da ieri nel senso che purtroppo quello che sta capitando con le trasformazioni del clima e queste alluvioni che stanno capitando in queste settimane comportano significativamente una riduzione come voi potete ben immaginare della vita cittadina quindi questa mattina le scuole erano chiuse molti uffici molte attività sono i smart working quindi c'è una presenza minore naturalmente di persone per la città. Chiaro che la preoccupazione in questi casi è diventata alta a fronte anche delle difficoltà delle giornate scorse credo che sia necessario assolutamente intervenire ma non solo a Bologna in questo caso in un contesto anche più nazionale per portare avanti dei provvedimenti che vadano nella logica di tornare a governare questi fenomeni che ci sono poi sempre stati e non è una novità di questi giorni con maggiore attenzione per quello che riguarda la cura anche dell'ambiente e naturalmente anche dei fiumi dei torrenti ma non solo io credo che sia per quello che riguarda la realtà pubblica sia per quello che riguarda anche la realtà privata la cura delle nostre colline del nostro appennino dei nostri fiumi di tutti quelli che sono anche naturalmente le necessità la manutenzione vadano intensificate alla luce del fatto che forse negli ultimi anni queste attenzioni si erano rallentate è chiaro che in via Saffi si è concentrato in modo particolare il problema oggi c'è una delicatezza evidente ogni volta che piove e a questo non bisognava arrivare Abbiamo detto dunque l'erta rossa estesa anche a domani mercoledì per il colpo di coda del maltempo eventuali smottamenti frane e naturalmente i corsi il livello dei corsi d'acqua dei fiumi dei torrenti da tenere sotto controllo poi c'è la decisione che deve essere presa in queste ore se riaprire o tenere chiusa anche per domani le scuole bolognesi Prosegue almeno fino a domani l'allerta maltempo sulla parte centro orientale dell'Emilia Romagna l'ARPAE ha diffuso una nuova allerta rossa il massimo livello per domani mercoledì 17 maggio si legge nel documento diramato insieme alla protezione civile permarrà una circolazione depressionaria con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata in progressiva attenuazione si prevede il perdurare di piene con interessamento delle zone golenali e degli argini su tutti i corsi d'acqua del settore centro orientale della regione saranno possibili significativi innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo idrografico minore con associati fenomeni di erosione spondale e possibili inondazioni delle aree limitrofe anche per effetto di criticità locali tombature e restringimenti è il caso del torrente ravone e difficoltà di smaltimento delle acque della rete di bonifica dal punto di vista della criticità idrogeologica saranno ancora possibili dissesti su tutto il territorio collinare e montano diffusi nel settore centrale e nel bolognese permangono condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili e di frequenti frane a carico della rete stradale accompagnate da ruscellamenti con erosione accelerata trasporto e sedimentazione di materiale si legge ancora nella nota questo è il punto fin qui naturalmente vi riferiremo nei corsi ai nostri prossimi telegiornali se necessario vi riferiremo in diretta la situazione dovesse peggiorare ulteriormente o degenerare naturalmente il nostro augurio non è questo restiamo però in tema di cronaca passando però alla guardia di finanza che ritiene di avere scoperto una maxifrode fiscale portato a termine da un consorzio di imprese del settore logistico la guardia di finanza di bologna ha eseguito due decreti di sequestro preventivo a carico di 19 società che operano nei settori della logistica e del facchinaggio per 74 milioni frutto di un profitto illecito scaturito da un'ingente evasione dell'iva e dall'indebita compensazione di crediti fiscali rivelatisi fittizi le misure cautelari sono l'epilogo di un'indagine cominciata nel 2016 e terminata nel 2020 che ha consentito di smascherare un meccanismo di somministrazione illecita di mano d'opera portata avanti da un noto consorzio bolognese con sede a Castel Maggiore attraverso una rete di società considerate spuri e attive in diverse località italiane tra le quali Bologna grazie anche alla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate è stato accertato che le 19 società interposte tra il reale datore di lavoro il consorzio e i dipendenti 1700 circa per ogni anno oltre a rivelarsi inadempienti al versamento delle imposte avevano compensato ingenti debiti tributari con corrispondenti crediti inesistenti al termine dell'indagine è stata ricostruita un'evasione dell'iva per 39 milioni perpetrata attraverso un giro di fatture giuridicamente false ammontanti a 250 milioni circa e un'indebita compensazione di crediti fittizi per 36 milioni sono state quindi denunciate 44 persone il vertice del consorzio e i legali rappresentanti delle 19 società che si sono succeduti nei cui confronti sono stati sottoposti a sequestro ingenti disponibilità finanziarie immobili e partecipazioni societarie per un valore di oltre 9 milioni di euro sottoposti a sequestro impeditivo lo stesso consorzio e due società collegate ora affidate a amministratore giudiziario le tre aziende potevano contare su circa 500 dipendenti in grado di produrre un volume d'affari annuo di ben 83 milioni di euro il esame ha confermato le misure cautelari e ora lo sport col basket perché la Virtus sabattuto in gara 2 ancora Brindisi ai quarti di finale playoff adesso la serie si sposta in casa degli avversari per gara 3 in programma venerdì sera la Virtus vince ancora contro Brindisi e si porta sul 2 a 0 nella prima serie playoff ma la partita è stata diversa rispetto a quella giocata sabato sera la Virtus parte subito forte e anche stavolta è micidiale in fase d'attacco con Teodosic e Hackett Brindisi però in partita risponde colpo su colpo portandosi anche sopra di un punto sul 47 a 48 un break che dura poco perché poi i bianconeri arrivano all'intervallo sul 53 a 48 poi entra in scena Bellinelli che con una fiammata a inizio secondo tempo mette tre triple e fa volare la sua squadra più 15 si arriva pure a un massimo vantaggio di più 23 sul 71 a 48 in attacco funziona tutto bene in difesa invece la Virtus concede qualcosa e Brindisi nell'ultimo quarto con un buon recupero arriva a meno 7 poi il tiro di Teodosic che chiude la partita c'è tempo però anche per un bel canestro di Bellinelli per il definitivo 109 a 95 adesso la serie si sposta a Brindisi per gara 3 in programma venerdì sera alle 20.45 Scariolo si è detto soddisfatto soprattutto perché le combinazioni offensive della sua Virtus funzionano bene ma non vuole abbassare la guardia sappiamo bene ha detto a fine gara che a Brindisi sarà dura loro sono la seconda squadra più veloce del campionato questo richiede per noi grande energia difensiva venerdì non ci sarà turnover a meno che non me lo chieda lo staff ha annunciato lo stesso Scariolo Bene questo era l'ultimo servizio del nostro Tg Pomeridiano grazie a cortesa attenzione vi ricordiamo anche che c'è il nostro rinnovato sito www.e-tv.it eccolo che vi aggiorna H24 su quanto sta accadendo in attesa del prossimo telegiornale da Bologna provincia e non solo dicevamo per rivedere i principali servizi i telegiornali e naturalmente le principali trasmissioni della nostra emittente ci fermiamo per questo Tg è davvero tutto grazie della cortesa attenzione appuntamento ai prossimi notiziari e-tv è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda